Ha detto tutto lei. Nel primo tempo avremmo meritato ampiamente di fare più gol, però è stato un errore nostro, non chiuderemo la partita. Nel secondo tempo, appena siamo rientrati, abbiamo preso, sull'unico errore, in pratica, in una fase difensiva abbiamo preso gol e poi abbiamo riprovato ad attaccare, ma nonostante la superiorità numerica non siamo riusciti a segnare. Quindi alla fine diciamo un tempo ciascuno, un primo tempo a voi, stessi tempo a loro, quindi un pareggio giusto alla fine? Visto il secondo tempo, come è andato? Dire che l'Agacast abbia giocato meglio di noi il secondo tempo. L'Agacast non ha rubato niente, ha fatto la sua partita, però avremmo stato meritato di vincere il primo tempo, avremmo meritato di vincere il secondo. Su questo penso che non ci siano dubbi, però alla fine l'Agacast ha pareggiato, non so, va bene così. Non mi sento di dire che il pareggio è giusto, sinceramente. Grazie. Prego. Alla fine ha fatto entrare anche Alfagene, si è molto impegnato, però non ha trovato spazio, l'Agacast si è difesa bene? No, l'Agacast gli ultimi 20 minuti ha fatto bene, abbiamo avuto un paio d'occasioni, una anche con Alfagene, in un altro paio d'occasioni è stato bravo il portiere, abbiamo schierato il paro, poi diventa difficile perché i minuti passano, cresce il nervosismo e sale soprattutto l'imprecisione. Ripeto, noi abbiamo questo difetto che non riusciamo a limitare, di non chiudere le partite perché noi spesso e volentieri ci capita di avere il dominio assoluto della partita, poi non la chiudiamo e prendiamo gol, in altre occasioni addirittura abbiamo pure perso. Possiamo dire ai misteri che questo pareggio, guardando i numeri, quindi la classifica serve a poco a tutte e due le squadre? Se serve all'Agacast non lo so, abbiamo cercato di vincere, però non ci siamo riusciti, prendiamo il pareggio e andiamo avanti. I punti servono sempre, poi c'è il rammarico di averne fatti tre, però i punti servono sempre, non sono mai inutile. Grazie. Grazie.